Bentornati sul canale YouTube rubrica dialoghi di Claudia Marcelli collegato al canale YouTube Blue Voice Live, al gruppo Facebook alla ricerca dell'agnosi e alla piattaforma di audiolibri Spreaker dove mi trovate sotto esoterismo di Claudia Marcelli. Bene, oggi affrontiamo un capitolo molto interessante del libro del testo di Max Heindel dal titolo Gli aiuti invisibili. Il nostro sistema di guarigione non si limita a procedimenti spirituali. Ogni qual volta la cosa è possibile ricorriamo ai mezzi materiali offerti dalla scienza medica. Vi sono anche casi in cui consigliamo all'ammalato le cure del medico in modo che possa ottenere un rapido sollievo che con sistemi diversi noi saremmo incapaci di procurarli. Noi attribuiamo una particolare importanza al regime alimentare. È cosa evidente perché se il nostro corpo è fatto di sostanze fisiche esso deve assorbire un nutrimento adatto che possa costituire un rimedio. Inoltre la guarigione è operata dai fratelli maggiori tramite gli ausiliari invisibili ai quali danno delle opportune istruzioni. Gli ausiliari invisibili sono dei candidati dell'associazione rosa crociana i quali durante il giorno conducono possibilmente una vita utile alla comunità cercando di renderle servizio, cosa che offre loro il privilegio di servire di notte in qualità di collaboratori dei fratelli maggiori. Questi candidati vengono raggruppati in base alle proprie tendenze spirituali e al proprio carattere. Essi ricevono le istruzioni da altri candidati che esercitano la professione di medico. Entrambi lavorano sotto la direzione dei fratelli maggiori che evidentemente sono gli animatori di tutta l'opera. Utilizzando le fluvio del loro corpo vitale si formano i gruppi di ausiliari invisibili e questa formazione comincia il giorno in cui il candidato firma il suo impegno. Quest'ultimo si rinnova ogni mattino quando egli annota gli esercizi che ha compiuto sul rapporto quotidiano. Fino a quando rimane fedele e vive una vita pura ed utile questo legame con i fratelli maggiori si consolida. Ogni gruppo di guaritori comprende generalmente 12 candidati più il loro istruttore. Di solito vengono scelti nella stessa regione in modo che per essi la notte scenda nel medesimo tempo. Non sarebbe possibile scegliere un candidato abitante in Australia e un altro che viva in Alaska per un lavoro da effettuarsi in comune durante il sonno in quanto se per uno è notte per l'altro è giorno. In compenso si scelgono degli ausiliari invisibili di qualsiasi paese in America del nord o del sud purché abbiano il riposo notturno presso a poco nel medesimo tempo. Questi candidati vengono raggruppati secondo il proprio segno ascendente in modo che messi insieme messi assieme possano formare uno zodiaco completo. Il sistema adottato dal centro di guarigione circa la richiesta di aiuto è uguale a quello praticato per stabilire coloro che fra i candidati sono suscettibili di diventare ausiliari invisibili. Vale a dire che chi desidera essere soccorso è pregato di rivolgerci una richiesta penna con inchiostro. La carta si impregna degli effluvi indicanti in modo perfetto lo stato vitale di chi ha scritto la lettera che funge da apriti sesamo per gli ausiliari invisibili ai quali l'ammalato viene affidato. In questo modo possono accedere al suo corpo. Molti di coloro che ci hanno rivolto una richiesta di guarigione ci hanno informati di aver visto e sentito gli ausiliari invisibili lavorare all'interno e all'esterno del loro corpo. Via via che la situazione del paziente migliora si fanno sempre più ottimistiche le informazioni inviateci. Per questa ragione preghiamo gli ammalati di scrivere qualche parola penna ogni settimana da spedire alla sede centrale. Con tale mezzo i fratelli maggiori hanno la possibilità di restare a contatto con i malati e di svolgere intelligentemente il compito di ridare loro la salute. Questa mansione è continua. Quando il sole scompare da una parte del pianeta i candidati si mettono al lavoro per guarire gli ammalati tramite il loro corpo eterico mentre il rispettivo corpo fisico è addormentato. Dal punto di vista anatomico l'uomo appartiene alla classe dei mammiferi animali aventi globuli sanguigni non nucleati. I nuclei che si trovano nel sangue degli animali inferiori sono il campo d'azione dei loro spiriti gruppo. I mammiferi superiori sono individualizzati ad un punto tale che il sangue non è più sotto la loro influenza. Durante le prime settimane della gestazione la madre agisce sul feto come uno spirito gruppo. In tale periodo si sviluppa il sangue del feto che è nucleato. Ma non appena l'ego comincia la propria opera distrugge le cellule nucleate così che al momento del passaggio allo stato di feto quattro mesi dopo il concepimento non ne è rimasto alcuno. L'ego allora è padrone del suo veicolo. È un'ereditarietà che non gli può essere tolta per nessuna ragione. Farlo sarebbe azione di magia nera sia che il responsabile ne sia o meno conscio. È evidente che se qualcuno in buona fede tentasse di privare l'ego del suo veicolo l'effetto pernicioso che ne risulterebbe sarebbe attenuato. Non è vero che se una persona cerca di intraprendere un trattamento comportante l'alterazione del sangue del paziente se quest'ultimo non lo desidera entra su un terreno pericoloso. Questa regola ha una sola eccezione. Fino a quando non abbiano raggiunto l'età della pubertà i bambini fanno parte per così dire dei loro genitori in quanto la ghiandola timo che in essi è molto sviluppata contiene in potenza il sangue dei genitori del quale il bambino si avvale per elaborare il proprio sangue per tutto il tempo in cui si forma il corpo del desiderio. Le riserve del timo diminuiscono gradualmente mentre il ragazzo acquista coscienza di sé. Quando il timo si è atrofizzato il corpo del desiderio è abbastanza sviluppato per realizzare il fenomeno alchemico consistente nel tramutare lo scheletro Saturnino in veicolo gioviano capace di incorporare l'essenza del corpo fisico finora raggiunta. Un procedimento che alteri la composizione del sangue provoca l'arresto di questo. Di conseguenza fino a quando il ragazzo non entra nella pubertà i suoi genitori possono agire in sua vece fornendogli lettere che gli apre la strada degli ausiliari invisibili. Il maggiore ostacolo che dobbiamo superare quando cerchiamo di guarire gli ammalati è la loro negligenza. Non riteniamo perciò di esigere molto chiedendo semplicemente al paziente di scrivere a mano e con inchiostro qualche nota informativa una volta alla settimana e di inviarci il bollettino della salute ogni due mesi affinché gli efflui vitali che escono dalle sue mani possano aprire gli ausiliari invisibili possano aprire agli ausiliari invisibili l'accesso al suo organismo. Malgrado questo non costituisca un'effettiva difficoltà molti pazienti trascurano di farlo. Citiamo qui di seguito il caso di un uomo che soffriva da anni dello spostamento delle vertebre e che fu guarito grazie alle nostre cure dopo che osteopati, chiropratici ed altri praticanti vi si erano dedicati in vano. Il povero uomo soffriva continuamente e sovente era costretto a letto quasi tutto il giorno incapace di lavorare. Gli ausiliari invisibili sono riusciti a ripristinargli le vertebre. L'uomo riprese il lavoro cosa che sembrava un miracolo ma del tutto sicuro di essere definitivamente libero ad ogni male trascurò le istruzioni che gli avevano dato di che gli avevamo dato di continuare a scrivere per dar modo agli ausiliari invisibili di vegliare affinché le vertebre non si spostassero più per un periodo di tempo abbastanza lungo e si potessero così consolidare. Perciò ricevemmo qualche tempo dopo una sua lettera che ci dimostrava quanto avessimo ragione nel chiedergli di conservare il contatto con noi e quanto lui avesse avuto torto nel non farlo. Scriveva così tempo fa vi ho chiesto anzi vi ho scritto che ero guarito e che avrei interrotto la corrispondenza settimanale con voi. Mi rendo ora conto di aver commesso un grave errore. Da allora la schiena ha ripreso a farmi male e sono ridiventato curvo sebbene da quando mi sono ammalato le vertebre siano rimaste al posto dove le avevate sistemate voi. Vi chiedo umilmente di rimettermi sulla lista di guarigione. Solo ora mi rendo conto dell'importante ruolo che gli ausiliari invisibili esercitano su di me e fino a quale punto la mia salute dipenda da loro. Grazie. Grazie. Grazie.